Fate una piccola rullatina, però dovete spezzare e salire, spezzare e salire, forza, dai, ok? Dovete modulare più in questo modo, ok? Perfetto, facciamolo molto rapido questo esercizio, da qui a quella linea, ok? Quindi solo tallone pianta punta, ginocchio un pochino verso l'alto, molto rapido e molto modulato verso l'alto, dai! Esatto, eh, perfetto, vedete? Perfetto, dai! Forza, fatelo così rapido, così capite! Via, 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 perfetto, via! Allora, tallone, pianta punta, pianta punta, metà tasso! Ok, molto bene, via, 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 via! Eh, andiamo a sbloccare il suo ginocchio! Sbloccare il ginocchio! Sali, sbloccare di dietro col tallone, sali avanti! Sbloccare il suo ginocchio, sbloccare il suo ginocchio! Oh, vedi che stai imparando, dai! Tallone avanti, non dietro! Sbloccare il ginocchio! Ciao! Allora! Sbloccare il ginocchio! Allora! Grazie.